Chi sbatte le uova? Silvia rompe le uova che lei a rompere è brava Forti, forti Dai a tavola, non toccate il palimino, questi le lavate le mani adesso Allora buon appetito, piatto sporco Buon appetito, piatto pulito Com'è andata oggi? Niente, ancora non hanno pagato Ma non hanno pagato? Pagheranno? T'hanno detto domani? Si sa Non si sa, io che gli dico a quello della banca, non si sa Che faccio, vado giù, che gli dico, ti vado a discutere Lo so, nemmeno puoi cambiare lavoro, non è che uno dice Lascio questo, ne trovo un altro, non è il momento Però, gliel'hai detto dell'assegno? L'ho detto, l'ho detto, l'ho detto L'ho detto che stava aspettando un bonifico Almeno un appunto L'ho detto che stava aspettando un bonifico Appena arriva il bonifico, mette i soldi Però non sa quando arriva sto bonifico Ma di che si va da parlando prima a tavola con papà? Eh, che papà ancora non lo pagano Ancora non gli danno lo stipendio E quindi papà aveva fatto un assegno E quando gli lo danno? Non si sa Solo che il problema è che papà l'assegno l'hanno versato in banca E quindi se non lo pagano in tempo L'assegno arriva indietro E quindi è un po' complicato Perché poi ti chiama il direttore della banca E addirittura ti possono, si dice, protestare l'assegno Significa che poi non ti danno più prestiti Cioè comunque sei segnalato Cioè tutta una procedura non è bello Insomma non è una bella cosa Però non lo pagano Aspettiamo tutti i giorni Speriamo presto Aspettiamo tutti i giorni